I presidi delle scuole, grazie per aver partecipato. Continua l'impegno sul territorio per il consorzio di bonifica con Prensorio Sarno, che ha da poco concluso il concorso per la scelta del nuovo logo, coinvolgendo gli istituti superiori del territorio. Non si ferma l'impegno dell'ente che, come annunciato ai nostri microfoni dal presidente Mario Rosario D'Angelo, a breve inaugurerà anche l'orto sociale a Solofra, ma soprattutto parla dei prossimi lavori alla vasca di contenimento in zona Campo Manfoli, tra Castel San Giorgio e Siano, che vedrà anche la presenza di un vicino parco pubblico, oltre ai lavori che saranno utili per prevenire le problematiche causate dal maltempo. Una bella iniziativa voluta dai nostri consiglieri, in particolare al nostro consigliere Nicole Lamberti di Cava, questo fatto del logo, anzi diciamo che da qui siamo partiti, ieri c'è stata proprio le commissioni con i consiglieri, partiranno altre iniziative che coinvolgeranno le scuole, Consorzio Porte Aperte, quindi vuol dire aprirci a quella che è la società civile, le scuole e i ragazzi, proprio attraverso quella che poi sarà l'itinerario, attraverso le oasi, i canali, le vasche che il Consorzio manutiene su tutto il comprensorio, e che quindi possiamo far sì che i ragazzi, le scuole e gli insegnanti possano visitarle, usufruirne e conoscerle. Quindi questa iniziativa ha avuto un successo molto, molto partecipato, grande, e quindi contiamo di riproporlo anche l'anno prossimo. Anche questa, l'orto sostenibile, pure questa portata avanti dai nostri consiglieri, e che si ripeterà anche rispetto all'anno scorso, ha avuto successo che riproporremo fine ottobre, orto sostenibile, alcune aziende e agricoltori quando stanno partecipando con entusiasmo, vedremo chi si aggiudicherà poi il premio proprio per la configurazione di questo tipo di coltivazione, cioè poco sfruttamento dell'acqua, attraverso l'illigazione che è l'acqua a consortire, che ricordiamo che è un'acqua certificata, controllata, perché poi alla fine il prodotto che va all'ortofrutta, che va sul tavolo del consumatore, del cittadino, deve essere un prodotto controllato che non poi possa mettere in pericolo la salute dei nostri, diciamo, concittadini. Ecco, consorzio impegnato anche nel territorio della Valle del Sarno, ci saranno importanti novità a stretto giro? Sì, stiamo proseguendo con le progettazioni e con i lavori sull'albio comune Lucerino, sui tre lotti che stiamo intervenendo, affidati l'anno scorso dalla regione, probabilmente inaugureremo questa vasca finanziata dal Ministero dell'Ambiente tra Castel San Giorgio e Siano per fine novembre, è quasi, sarà una bella opera, poi la vedranno i cittadini, con molte, diciamo così, insediamenti di architettura ambientale, quindi ci sarà una pista ciclabile, molte piante, quindi i cittadini potranno anche sfruttarla nel periodo appunto di non interventi tra giro, quindi è importante anche questo che sia una vasca a basso impatto ambientale che sia presente nella, come posso dire, nella urbanizzazione della città, delle due città in questo caso. Anche un intervento importante, visti i danni che il maltempo potrebbe causare nelle nostre zone? Ha causato, ha causato in tutta Italia, all'Erta Russo nel nord Italia, purtroppo siamo un territorio fragile, fortemente antropizzato, urbanizzato, e molto spesso le alvi strada si allagano perché praticamente sono state ricostruite strade negli anni e quindi l'acqua non defluisce, attraversa proprio come dei fiumi le strade dei nostri comuni, quindi abbiamo a che fare con questa situazione particolare che speriamo che, insomma, non...